Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Abbiamo aperto anche il sito proaudiolearning.com da cui poter acquistare i nostri corsi professionali, oltre ad un account Patreon in cui troverete anche altri video tutorials. Tutti i link sono in descrizione. Non dimenticate di cliccare sul tasto subscribe e nella campanella in basso a destra per iscrivervi al canale e lasciare un commento sotto. In questa lezione parleremo di Impact, il nostro sample player di batteria contenuto all'interno di Studio One. Come scopriremo è uno strumento molto potente che ci permetterà di registrare, creare, scrivere tantissimi loop e bit, sia con i suoni e i loop contenuti all'interno di Studio One, sia con i nostri proprietari provenienti da librerie esterne. Come vediamo ho a disposizione anche l'Atom di Presonus, perché è uno strumento perfetto ed super integrato con Impact. Vediamo come utilizzarlo al volo. Innanzitutto apriamo una traccia con Impact, quindi prendiamolo e trasciniamolo nell'arrangiamento. Come vediamo è al momento è vuoto, non contiene samples. Atom si integra con i 16 pad contenuti all'interno di Impact, ma non solo possiede dei controller manopola da poter assegnare al mixer o agli altri parametri che vediamo qui all'interno sempre di Impact. L'interfaccia ricorda quella classica dell'NPC, storico Bit Player, e che ovviamente è richiamata anche da tantissime altre interfacce e controller di questo tipo, come ad esempio Machine. è uno strumento semplice da utilizzare. Come vedremo ci permette di caricare appunto le librerie interne. Come vediamo, prendiamo ad esempio quella Basic che si trova in Studio One, Base Kit. Come vediamo Atom si interfaccia appena viene collegato nella finestra di connection e i pad prendono il colore che vediamo qui all'interno degli stessi pad dell'interfaccia. Non si avverte alcun tipo di latenza grazie a questo tipo di connessione. L'instrument viene riconosciuto ovviamente in maniera nativa, quindi super integrato con il pad che vediamo qui all'alto. All'interno di Impact XT possiamo infatti caricare, come dicevo, samples dalle librerie, editare facilmente tutti i samples, vedremo poi come farlo, e modificarli poi nel pitch, il filtro, l'inviluppo eccetera eccetera. Oltre alla possibilità di creare dei multilayer all'interno dello stesso pad, quindi dei layer di diversi campioni che possono essere associati a diverse velociti. Comodissimo per quanto riguarda le batterie acustiche. Andiamo ad esplorare l'interfaccia. Innanzitutto possiamo scegliere il colore. Cliccando sul logo dei Presonus possiamo infatti cambiare il colore dell'interfaccia di Impact in base ai nostri gusti o anche in base al monitor che stiamo utilizzando. Io adoro il suo rosso, quindi lo teniamo di questo colore. Ogni volta che selezioniamo uno dei samples viene immediatamente rappresentato qui in alto nella visualizzazione della forma d'onda. Rimanendo sempre nell'interfaccia possiamo scoprire come è possibile zoomare la nostra forma d'onda ed arrivare ad esempio al voler partire, quindi creare un momento di attacco estremamente preciso sull'inizio del sample. Questo è comodo quando noi vogliamo poi che il sample suoni esattamente al suo minimo possibile. Cosentiamo adesso c'è uno snap pazzesco rispetto a questo micro latenza che c'è dopo averlo suonato. Vediamo come risponde dinamicamente al pad. Troviamo poi la possibilità di zoomare ulteriormente la forma d'onda e ovviamente la possibilità di normalizzare il file all'interno cliccando su normalize di fare il reverse immediatamente in maniera molto rapida e attraverso il più aggiungere eventualmente un nostro sample all'interno di questo pad. Subito a destra troviamo le funzioni principali dello strumento che stiamo suonando, in questo caso la cassa. Possiamo scegliere di suonarlo con one shot, quindi quando tocchiamo il sample viene suonato interamente, in modalità loop quindi tenendo premuto il pad poi comunque entra in loop o normale smette di suonare appena solleviamo il dito dal pad. Per farlo andare tutto, per suonare tutto il sample bisogna tenere premuto il pad. Se avessimo inserito un loop invece all'interno del nostro pad avremmo potuto utilizzare la funzione quantize in base ai bit di metà un quarto o sul bit appunto. Anche il follow tempo se contenessimo all'interno un loop sarà agganciato immediatamente al metronomo della song, quindi il loop automaticamente verrà strecciato per essere eseguito correttamente. L'offset ovviamente è come poter spostare la nostra sezione di aggancio inizio del loop e poter rallentare ovviamente la partenza. Come vediamo parte in base ai millisecondi che noi impostiamo in questa posizione. Anche l'end fa lo stesso tipo di lavoro. Quindi si ferma prima in base all'offset. Sopra in cima troviamo la nota di riferimento a cui è associato il nostro pad. In questo caso C1 e possiamo cambiarla eventualmente in un'altra nota che verrà poi sempre evidenziata qui all'interno del pad. Possiamo eventualmente creare dei layer tra più kick dando lo stesso valore di nota. In questo modo quando ne suoniamo uno verranno suonati entrambe. Comodo quando costruiamo i layering. Scendendo nell'interfaccia scopriamo come attraverso gli altri 8 slot possiamo inserire altri tipi di samples. Quindi creare un super kit da poter poi utilizzare durante gli arrangiamenti. Comodissimo anche poterlo switchare attraverso il comando bank che troviamo qui. bank clic e viene modificato. Il pulsante show hide mostra l'instrument velocemente. Setup ci porta in modalità di setup del nostro kit. Qui a destra invece nell'atom troviamo le funzioni di play rec stop che possono essere utili in fase di recording. Mentre il pulsante editor ci apre appunto l'editor sottostante a studio one dove poter poi lavorare velocemente nella stesura del nostro kit. Torniamo nel nostro menu. Continuando l'esplorazione dell'interfaccia scopriamo come è possibile spegnere tutte le note velocemente del segnale midi e creare quindi un reset anche dell'interfaccia. Sotto troviamo le funzioni di pitch transpose in cui possiamo ad esempio modificare il pitch e programmare anche il pitch del sample che stiamo suonando e quindi anche adattarlo all'arrangiamento qualora volessimo fare delle note all'interno della cassa. In questo caso abbiamo il transpose che funziona per semitoni e il tune che lavora in synth. Segue poi il classico adsr quindi attacco, hold e decay, l'envelope modulation e la velocity ovviamente del nostro sample che stiamo lavorando. Oltre questo possiamo accendere il filtro e quindi il cutoff. Programmabile anch'esso attraverso studio one quindi possiamo facilmente creare anche delle linee di programmazione dove lavorare con il cutoff o il pitch ad esempio. Come vediamo ogni volta che aggiungiamo una linea di programmazione il nostro controllo viene evidenziato con un puntino. Possiamo facilmente ovviamente anche associare il nostro controllo ad uno potenziometri che troviamo all'interno di Atom. Basta toccarlo semplicemente cliccare col tasto destro e assegnarlo al nostro controller. In questo modo abbiamo l'assegnazione immediata del controllo di cutoff oppure tocchiamo il secondo, andiamo su pitch e lo assegniamo. È veramente un sistema rapidissimo di assegnazione dei controlli che ha studio one nei confronti dei controller esterni. I pad hanno diverse caratteristiche. La prima è quella di poter suonare il sample stereo oppure cliccando il sample abbiamo la possibilità di solo e mute quando stessimo ascoltando un loop creato con i nostri sample e ovviamente scegliere anche l'uscita separata nel nostro mixer di studio one. In questo momento sta uscendo il kick su stereo uno dell'impact. Infatti se andiamo nel mixer vediamo che impact crea automaticamente i canali di uscita dei nostri samples e ogni sample può utilizzare uno di questi sette canali di default stereo. Possiamo aggiungerne ovviamente altri. Per fare questo clicchiamo una volta nel nome qui all'interno della Rack Instruments impact e apriamo la sua finestra. In questo modo possiamo aggiungere i canali che mancano al nostro impact compresi i canali mono che si trovano subito sotto. Li vediamo scritti con M. Ad esempio se volessimo inviare kick low ad un canale mono in uscita mono quindi adesso possiamo selezionarlo e come vedremo uscire esce direttamente nel canale mono che abbiamo creato ora da la Rack Instruments. Come vediamo le uscite sono tantissime sono circa 32 uscite. Come vediamo sono 32 uscite mono e stereo. L'uscita mono viene evidenziata dal singolo cerchietto mentre l'uscita stereo dal doppio cerchio. Lo stesso accade nei canali audio di Studio One. In alto qui troviamo il colore che è stato assegnato in questo caso il kick. Possiamo assegnare un altro tipo di colore e vediamo che anche su Atom immediatamente viene riconosciuto lo stesso identico colore che noi selezioniamo. Proseguendo l'esplorazione dell'interfaccia il nostro filtro di cutoff può essere variato ovviamente attraverso questa selezione dei vari filtri. Sono più o meno gli stessi che abbiamo già visto all'interno di Mai Tai. Abbiamo sia i low pass filter che gli high pass filter. Oltre alla possibilità di utilizzare il drive. In questo caso qui possiamo scegliere un drive derivato anch'esso dalla tecnologia utilizzata dentro il plugin red light distortion e il punch che fa da compressore. Oltre alla risonanza del segnale. Anche in questo caso attacco tenuta e rilascio selezionabili. Ho la possibilità di utilizzare soft che ammorbidisce l'intervento del cutoff. In ultimo abbiamo il gain del singolo sample, il pan per poterlo distribuire e sempre anche in questo caso le funzioni di attacco hold e decay. Oltre alla velocity. L'interfaccia sostanzialmente è questa e quindi è molto semplice sia utilizzarla sia ritrovarla subito con Atom. Se noi andassimo a caricare un kit contenente multilayering come ad esempio l'acoustic kit multilayer scopriremo che all'interno dello stesso layer ad esempio di bass drum troviamo diversi campioni in base alla dinamica e che ovviamente vengono suonati in base alla dinamica che noi troviamo. Interessante la sensibilità di Atom e lo trovo molto comodo per programmare anche parti più complesse. Poter programmare velocemente anche ritmi che è molto complesse. Lo utilizzo veramente molto in fase di scrittura. Le velocity come vediamo sono già assegnate ma è possibile modificarle trascinando questa piccola barra che troviamo tra una velocity e l'altra. È comodissimo per programmare i nostri samples. Vediamo come importarli. Creiamo un kit vuoto e attraverso il nostro browser qui al lato andando all'interno di files nelle nostre librerie ad esempio potrei scegliere di selezionare una cassa e inserirla nel pad molto velocemente. Qualora invece volessi assegnare più casse all'interno dello stesso pad troveremo la scritta replace samples e tutti i samples verranno assegnati automaticamente a dinamiche diverse. Se invece volessi caricarli separatamente sui diversi pad ogni volta che trascino il gruppo devo tenere premuto shift e verrà fuori la opzione spread samples across multiple pads. In questo modo i nostri suoni di cassa vengono suddivisi per i diversi pad che troviamo qui anche su Atom in maniera rapidissima. Poi sarà facile assegnare i vari colori ad ogni sample. Una volta terminato basta salvare la patch e troveremo poi la nostra batteria pronta per poter essere utilizzata velocemente nei nostri arrangiamenti. Mi è stato chiesto diverse volte come poter programmare un P-Shifting all'interno dello stesso sample. Prendiamo ad esempio un sample più lungo. Negli Atomic Fuel che troviamo in dotazione quando acquistiamo Atom prendiamo ad esempio uno dei loro sample come vediamo. Questo è l'arpeggio. Vogliamo ad esempio stonarlo in stile tape quindi come se noi avessimo un tape. In questo caso abbiamo già la nostra taccia di programmazione relativa al pitch. assegniamo direttamente il pitch a questo tasto. Il nostro sample si chiama C2 quindi lo registriamo. e adesso andiamo a programmare il nostro il nostro P-Shifting. Una volta registrato clicchiamo sul nostro controller lo assegniamo immediatamente verifichiamo che funzioni. Siamo pronti a programmarlo in modalità discendente ovviamente tenendo premuto il quantize su follow tempo troveremo poi la nota scordata come volevamo. andiamo su write. Play ed ecco lo scritto velocemente. Torniamo su read. Ascoltiamo. Semplicissimo. Se vogliamo poi ritoccare la programmazione in maniera più dettagliata possiamo tranquillamente utilizzare una parabola tenendo premuto alt si inverte. Eccola qui. E possiamo creare un effetto di rallentando sul sample senza modificare la tempo track. Molto utile. Torniamo sulla nostra importazione dei sample quindi svuotiamo il kit riprendiamo le mie casse tutte e trasciniamole all'interno dei nostri pads. eccoce le assegnate. Ora possiamo velocemente come vediamo ogni ogni sample ha un nome. Se noi in questo momento entrassimo in modalità edit attraverso il pulsante qui in alto vedremo che i nomi sono già stati immediatamente assegnati al lato per la programmazione quindi per l'inizio della programmazione della nostra batteria. siamo ora pronti per scriverla ed avere sempre qui a lato i nostri edit i nostri nomi. Una volta terminato sarà semplice poi trasformare il tutto in pattern come abbiamo già visto nella lezione sui patterns. possiamo ovviamente cliccare sulla nostra traccia registrata e attraverso la funzione convert to pattern abbiamo già la possibilità di scriverlo immediatamente in questo modo. quindi velocemente scrivere il nostro pattern in maniera rapidissima. come abbiamo visto impact xt è uno strumento utilissimo velocissimo e in accoppiata con il controller atom diventa veramente semplice scrivere e arrangiare bit e sample e song intere anche di batteria. come vi dicevo lo uso tantissimo in tutte le fasi di produzione. spero che questo tutorial vi sia stato utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito ProAudioLearning.com o JGRStudios.com dove gli argomenti vengono trattati in maniera semplice ed accurata affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. continuate a seguirci su facebook youtube e music off. se volete contribuire alla realizzazione di questi video gratuiti iscrivetevi anche al canale Patreon dove ne troverete altri esclusivi ogni mese. per il momento è tutto ciao a presto